Luciano D'Alfonso resta presidente della regione Abruzzo ma senza stipendio. Non si sa infatti il periodo in cui resterà sia presidente della regione che senatori. Ma non ci sono dubbi invece sullo stop all'erogazione dello stipendio da governatore perché il dirigente della regione Paolo Costanzi, su proposta del responsabile dell'ufficio bilancio e stipendi del Consiglio regionale Gianfranco De Crescenti, il 22 marzo scorso ha firmato la determina dirigenziale con la quale sospende a partire dal 23 marzo il diritto alla correspensione dell'indennità di carica e funzione che spetta il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Rivestendo la carica di senatori a questo punto D'Alfonso si trova in una delle situazioni di sospensione delle indennità previste espressamente dall'articolo 7,1 della legge regionale del 2010. Il trattamento economico di senatore infatti decorre dalla data di prima riunione del Senato e cioè il 23 marzo scorso. La legge regionale è chiara e vieta il cumulo. Solo l'indennità di carica e di funzione non spettano al consigliere e al componente della giunta che nel corso del mandato siano proclamati componenti di una delle due camere. Dunque D'Alfonso dovrà rinunciare ai 9.600 euro lordi da presidente e aspettare gli 11.703 sempre lordi da senatore. Già a fine gennaio, dopo la candidatura al Senato, il presidente aveva chiesto comunque un atto deliberativo che tra le altre cose sancisse la sua rinuncia a un terzo delle competenze economiche durante la campagna elettorale. In questo periodo inevitabilmente, aveva spiegato il presidente, l'impegno della campagna elettorale non mi consentirà di destinare illimitatamente tutto il mio tempo all'ente regione come ho sempre fatto. E così è stato fatto sia a febbraio che a marzo, indennità decurtate di un terzo, così come richiesto.